Ok, riprendiamo da qua allora e cerchiamo di entrare nel modello che useremo per rappresentare le informazioni che vorremmo che il nostro sistema informativo gestisca ovviamente dipendono dalle funzionalità che il sistema informativo deve avere e descriveremo attraverso questo diagramma delle classi il tipo di informazioni a livello concettuale, quindi si chiama modellazione concettuale perché non andiamo adesso a modellare nel dettaglio i dati che verranno usati nel sistema informativo ma ci concentreremo su quali sono i concetti da rappresentare e le relazioni tra questi concetti da cui poi si potrà derivare la rappresentazione sotto forma di dati, di tabelle, di database eccetera ma per il momento ci poniamo al punto precedente quindi noi dobbiamo in qualche modo rappresentare tre dimensioni dell'informazione rispondere a queste tre macro domande uno è quali sono i concetti principali gestiti dal sistema di che cosa parla questo sistema informativo quali informazioni gestisce gestisce gli utenti, gestisce i prodotti, gestisce i clienti, gestisce le prenotazioni gestisce i trasporti, gestisce che cosa gestisce quali sono le interpretazioni che diamo, le informazioni quindi informazioni dicevamo sono dati di senso compiuto per noi che per noi significano qualcosa quali sono le cose che questo sistema informativo deve gestire e che a noi dicono qualcosa, che hanno un certo significato riassunti in una parola i concetti principali gestiti dal sistema questi concetti come vengono descritti? è la seconda domanda identificate i concetti principali quali sono le informazioni che mi servono per descrivere quel concetto sul concetto di studente che voglio gestire nel mio sistema informativo avrò delle informazioni sul concetto dello studente che sono il nome, il cognome, la matricola il corso di laurea che sono iscritti questo forse no lo vediamo in un secondo la data di nascita, eccetera, eccetera sono informazioni del soggetto in questo caso in generale del concetto che stiamo rappresentando non sono ancora dati il nome non è ancora un dato la stringa di testo che rappresenta il nome è un dato ma quella stringa di testo rappresenta il nome cioè l'informazione questa informazione a parte serve per descrivere un concetto più ampio che il concetto di studente che è un concetto di alto livello che noi abbiamo in mente quando stiamo progettando il sistema informativo quindi identifichiamo i concetti e cerchiamo di capire quali sono le informazioni proprie di ciascuno di questi concetti quindi stiamo parlando di università parleremo di studente che è descritto attraverso una certa insieme di informazione parleremo di corsi che sono descritti attraverso una certa serie di informazioni il codice, il titolo, il semestre, eccetera, eccetera il programma parleremo di docenti che sono descritti attraverso un'altra serie di informazioni e così via concetti ciascuno dei quali esiste di per sé ma che nella pratica del sistema informativo non esistono mai separati l'uno dall'altro perché sono sempre in qualche modo collegati quindi se io so descrivere il concetto di studente e il concetto di corso ti potrò poi anche dire che un certo studente frequenta un certo corso quindi c'è una relazione in questo caso la relazione di frequenza tra il concetto di studente e il concetto di corso e questa è la nostra terza domanda quindi quali sono i concetti principali? quali sono le informazioni che servono a descrivere questi concetti principali e quali sono le relazioni che intercorrono tra questi concetti l'informazione dell'uno l'informazione dell'altro e poi ci sono delle informazioni che li mettono in collegamento la natura è diversa perché io posso parlare del concetto di studente senza dire quali sono i corsi che frequenta però non posso parlare del fatto di frequentare se mi manca il soggetto c'è lo studente e mi manca l'oggetto c'è il corso quindi le relazioni sono qualche cosa che si aggancia, si monta sopra ai concetti i pilastri più importanti sono i concetti che possono esistere di per sé e le relazioni possono esistere in quanto collegamenti tra concetti in quanto coinvolgono concetti diversi questi sono i tre pilastri principali della modellazione e dovremmo abituarci e questa forse è la parte più difficile di tutto il corso non sto per scrivere equazioni complicate però il modo di pensare è qualche cosa che mi accorgo che crea difficoltà in molte persone dovremmo imparare a distinguere parlando di informazioni, di dati, di concetti un livello astratto da un livello concreto cioè il concetto di studente quali sono le informazioni che descrivono il concetto di studente rispetto, questo è un livello astratto rispetto a quali sono i valori di tali informazioni nel momento in cui descrivo lei un singolo specifico elemento della classe studenti noi vogliamo costruire un sistema informativo che gestisca le informazioni di ciascuno di voi qui il sistema informativo gestisce i tuoi dati, i tuoi, i tuoi, i tuoi i tuoi dati di ciascuno separatamente gestisce degli elementi, degli item degli oggetti delle istanze, delle occorrenze di studenti usiamo tutti questi termini per rappresentare gli oggetti specifici di cui vengono rappresentate le informazioni ma per poterlo fare non possiamo metterci lì a dire allora i dati dello studente sono beh il nome suo è questo, è questo, è questo no, diamo una regola più generale tutti gli studenti hanno un nome tutti gli studenti hanno un cognome tutti gli studenti hanno una matricola quindi ci astraiamo rispetto alla rappresentazione delle informazioni che mi servono per descrivere il singolo studente e definiamo in termini astratto il concetto di studente o la classe di studenti questi sono tutti vagamente sinonimi questi termini che trovate sopra così come lo sono quelli che vedete sotto rappresentano degli insiemi delle categorie dei tipi di oggetti che condividono caratteristiche comuni quindi non andiamo a sprecare a fare un elenco lungo di cose che possono essere dette quando lo diciamo una volta sola per una certa categoria per una certa classe di oggetti e vale automaticamente per tutti il modello che utilizziamo è un modello in cui si descrive il sistema informativo il modello concettuale del sistema informativo a livello astratto definiamo delle cose a livello di classi di concetti di categorie in database le chiamate entità ma i segni, i disegni le informazioni che mettiamo a livello astratto in realtà si applicano a livello concreto quando diciamo la classe studente è un attributo nome stiamo dicendo che ciascun elemento di tipo studente avrà un valore un dato specifico che mi dà l'informazione del nome non stiamo facendo filosofia sono due livelli diversi a cui dobbiamo abituarci a ragionare noi disegneremo sempre solo concetti astratti ma dietro ciascuno di questi concetti dobbiamo immaginarci e vedere tanti puntini che sono i singoli elementi concreti cercheremo facendo esercizi anche di allenarci avere questa visione in cui vedo dietro al foglio che cosa c'è gli elementi che appartengono alla classe come sono fatti tenendo presente che questi elementi concreti a loro volta sono ancora sempre informazioni informazioni concrete qui io non ho detto prima spero tornando indietro con le distrazioni non smentirmi non ho detto che il livello concreto rappresenta lei o uno qualunque di voi ma il livello concreto rappresenta le informazioni su quello determinato studente qui dentro nel nostro sistema informativo abbiamo solo dati che cerchiamo di mettere in ordine e interpretarli come informazioni di senso compiuto non abbiamo nulla di più non abbiamo le persone qua dentro abbiamo le informazioni sulle persone quindi quando diremo ma lo studente Pippo è nato nel 1995 stiamo dicendo che l'informazione della data di nascita a proposito dello studente di cui abbiamo l'informazione che il nome si chiama Pippo è quella è ovvio che non possiamo spendere metà della nostra vita a dire solo la parola informazione quindi la daremo per scontata ma non dimentichiamoci che c'è quindi se voglio identificare i due punti critici ma a livello di ragionamento che dobbiamo imparare insieme a fare su questa slide uno è riuscire a capire che cosa c'è che quando facciamo un ragionamento e riscriviamo un'informazione se stiamo parlando di un elemento specifico o di un gruppo di elementi che condividono tutte le stesse caratteristiche prima cosa la seconda cosa è distinguere l'informazione che ho a proposito di alcuni elementi con ciò che fanno nel mondo reale le persone o gli oggetti che sono rappresentati da tali informazioni perché? ma perché ce ne accorgiamo tra due settimane quando comincieremo a fare un modello di processo in cui ci chiederemo che cosa fanno le persone dove adesso lo dico e sembra ovvio quando dico lo studente si iscrive quello lo studente è una persona vera non è la classe che rappresenta le informazioni a proposito dello studente questi due concetti dovremmo tenerli ben separati una persona che fa cose che interagisce con il sistema informativo con certe funzioni con certi ruoli rispetto a le informazioni che il sistema informativo ha di quella persona allora per oggi cominciamo a preoccuparci solamente del modello concettuale quindi per ora davanti e dietro a ogni frase che dico metteteci sempre informazione informazione ok allora dicevo che i modelli UML i diagrammi delle classi sono un linguaggio un linguaggio grafico ma pur sempre un linguaggio e quali sono i costrutti di questo linguaggio beh quelli principali sono questi elencati qua dove io ho messo nella parte sinistra quelli principali più importanti di base e nella parte destra quelli un pochino più avanzati che non sempre ci servono ma quando ci servono ci semplificano la vita ok quindi oggi ci occupiamo solamente della parte di sinistra quindi non è un linguaggio complicatissimo è una manciata di costrutti che sono relativamente semplici il costrutto più semplice di tutti da usare ma forse più difficile da interiorizzare è il concetto di classe o concetto o entità l'UML lo chiama classe infatti si chiama class diagram noi parliamo di modellazione concettuale cioè modelliamo i concetti e questi concetti per noi sono classi perché UML li chiama classi come dicevo prima li usiamo come sinonimi tranquillamente per noi vogliono dire la stessa cosa una classe rappresenta un insieme di oggetti che da un lato hanno proprietà comuni hanno delle cose in comune hanno molte cose in comune cioè si possono in qualche modo rappresentare attraverso le stesse stesse tipi di informazioni e quindi li raggruppo in una classe in un insieme unico proprietà comuni tra le proprietà che voglio rappresentare voi mettereste nella stessa classe studenti e professori insieme o avreste due classi una studente e una professore da mantenere separate hanno delle proprietà hanno delle proprietà in comune gli studenti e i professori hanno tutte le proprietà in comune hanno alcune proprietà in comune sono più le cose che hanno in comune che quelle che hanno diverse e la risposta e la risposta giusta ce n'è una sola sempre dipende dipende da cosa devo fare se nel sistema informativo devo gestire i corsi la didattica è ovvio che sono più le cose diverse che quelle comuni in comune avremo il nome e cognome data di nascita quello del genere ma tutto il resto è diverso se invece lo vedessimo da altri punti di vista quando andiamo a fare l'abbonamento della GTT a costi scontati non importa che tu sia studente o professore o segretario vale la stessa cosa l'importante se sono solamente nome e cognome ed essere inserito all'interno del Politecnico per dire quindi dipende non c'è una risposta che vale sempre che cos'è una classe non troviamo la tre cani delle classi in cui trovi tutte le classi di cui potresti mai aver bisogno già decise da qualcun altro cioè costruiamo noi sulla base di ciò che quel sistema informativo deve fare allora capiamo quali sono in quel caso specifico i concetti importanti le proprietà che voglio gestire di un oggetto dipendono dalle elaborazioni che dovrò fare con l'oggetto quindi in ultima analisi dalle funzioni che il sistema informativo dovrà avere e poi la seconda caratteristica importante che devono avere le classi è di rappresentare oggetti di esistenza autonoma cioè io devo poter essere in grado di parlare del concetto X senza tirare in ballo necessariamente il concetto Y e Z perché se per parlare di X devo per forza parlare di Y allora X non è un concetto indipendente è un sotto concetto di Y sarà legato a Y in qualche modo sarà un pezzo di Y se non posso parlare di X da solo nel nostro caso studente e professore io posso benissimo parlare dello studente e scrivere le informazioni che ho sul proposito eccetera senza mai citare il professore è possibile descrivere dire quali proprietà possiede eccetera senza dipendere da altri tipi di concetti ok per convenzione noi chiameremo queste classi usando un sostantivo al singolare quindi nonostante rappresenti un insieme di studenti la classe il concetto lo chiameremo studente concetto astratto studente classe studente sappiamo che la classe studente conterrà il suo interno rappresenta o sottintende migliaia di istanze di oggetti diversi ciascuna delle quali rappresenta le informazioni che possediamo a proposito di uno studente specifico come rappresentiamo dal punto di vista grafico con delle scatole quindi una classe in uml nel diagramma delle classi uml è semplicemente un rettangolo un rettangolo con in testa il nome della classe qui c'è una classe impiegata una classe città una classe vendita una classe dipartimento possiamo aggiungere la classe studente possiamo aggiungere la classe professore eccetera eccetera queste scatole hanno due o tre scomparti in uml possono averne tre in generale nel caso più generale il primo scomparto è per il nome gli altri due scomparti che qua sono disegnati vuoti sono rispettivamente per le proprietà per i metodi le proprietà sono le informazioni la nostra seconda domanda di quelle tre domande chiave le informazioni che servono per descrivere gli oggetti di quella classe e noi dovremmo riempirla quella seconda parte la terza parte che è opzionale contiene i cosiddetti metodi cioè le azioni che quell'oggetto è in grado di fare interessa per chi progetta poi il sistema informativo vero e proprio quindi scrive il codice dicendo quella classe deve fare quelle operazioni a noi non interessa non lo useremo mai in questo corso quindi per noi le classi saranno fatte di due scomparti il primo contiene il nome della classe il secondo conterrà tutte le proprietà della classe stessa ecco una classe è un insieme rappresenta un insieme un insieme potenziale e in questo insieme cosa c'è? quali sono gli elementi di questo insieme? parlando matematicamente sono oggetti 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 singoli tutti dello stesso tipo tutti appartenenti allo stesso classe allo stesso tipo e quindi tutti aventi le stesse tipologie di informazioni cioè le stesse proprietà ma i valori sono diversi facendo sempre esempio della classe studente la classe studente avrà una proprietà nome e una proprietà cognome cioè tutti gli oggetti studente l'oggetto studente non è ciascuno di voi è l'informazione a proposito di ciascuno di voi quindi per ciascuno di voi c'è un oggetto nel sistema informativo che è una scheda di informazioni un insieme di informazioni e in tutti voi ci sarà e per tutti voi per tutti gli oggetti corrispondenti a ciascuno di voi ci sarà un'informazione che corrisponde al nome perché ciascun oggetto della classe studente deve avere quelle stesse informazioni poi il no il valore che viene dato a questa informazione è diverso per ciascuno di voi quindi è come se noi dicessimo che una classe io a volte mi aiuto facendo dei paragoni con la carta una classe definisce un modulo un modulo sapete quei moduli da compilare in cui ci sono i campi e poi c'è lo spazio vuoto per riempire le tue informazioni allora la classe rappresenta lo scheletro del modulo il modulo da compilare non ancora compilato i singoli oggetti sono i singoli fogli compilati di quel modulo lì quindi il modulo è unico e dietro ce ne sono 10.000 istanze compilate ciascuna con dei dati diversi così come nessuno si sognerebbe mai di dire che un foglio di carta è uno studente ma su quel foglio di carta ci sono i dati o meglio ci sono le informazioni relative a quello studente anche noi dobbiamo far attenzione a tenere separate quindi l'analogia della carta mi aiuta anche proprio fisicamente a tenere separate le cose lo studente va a lezione il foglio di carta non va a lezione sul foglio di carta può esserci scritto a quale lezione lo studente deve andare ma è un'altra cosa dalle gambe che si muovono e vanno in una certa aula quindi quando noi disegniamo una classe come questa city immaginiamo che dentro questa classe ci siano tantissimi io me li immagino come puntini perché me li vedo un po' come un insieme con tanti elementi ciascuno di quali corrisponde a una singola città diversa dalle altre quegli oggetti sono tutti simili perché sono dello stesso tipo ma diversi perché ciascuno rappresenta un'identità distinta dalle altre una diversa città un diverso impiegato un diverso studente sono diversi nei valori non sono diversi nell'elenco delle informazioni che disponiamo a proposito di quell'elemento e quindi questa è una presentazione che useremo pochissimo si può rappresentare in UML anche il singolo oggetto la singola istanza di una classe il singolo elemento dell'insieme sempre con un rettangolo però col bordo semplice non doppio senza scomparti con un nome dell'oggetto due punti il tipo cioè la classe a cui appartiene lo useremo raramente se non magari per fare qualche esempio perché non ci mettiamo noi a fare quando facciamo modellazione a elencare quali sono gli oggetti su cui il sistema informativo dovrà lavorare tipicamente non lo so come si chiamano gli impiegati dell'azienda per cui sto costruendo il sistema informativo ma non me ne frega neanche niente il sistema informativo deve funzionare indipendentemente dal loro nome ci serve però a volte per chiarire alcuni passaggi ecco cosa rende però siti diversi da impiegato e io queste classi le ho chiamate con un nome che ci evoca qualcosa sono parole della lingua inglese che per noi hanno un significato per la macchina non hanno nessun significato non saprebbe distinguerle le avrei potuto chiamare a 1 a 2 a 3 a 4 non cambia nulla cos'è che dà il vero significato a una classe che rende una città una città un impiegato un impiegato beh le informazioni che posso dare a proposito della città che saranno diverse dalle informazioni che posso dare a proposito dell'impiegato queste informazioni nel linguaggio del diagramma della classe UML si chiamano attributi o proprietà dico che la città ha un nome Torino e il nome è un attributo di tipo testuale testo la città ha una popolazione popolazione è il nome di un attributo di tipo numerico è un numero la popolazione la città ha una certa posizione sulla mappa longitudine e latitudine col GPS quindi la posizione è il nome di un attributo cioè un'informazione che posso dare a proposito della città il cui tipo è una coppia di numeri reali anzi più in dettaglio una longitudine e una latitudine quindi descriviamo le informazioni che si possono dare a proposito di una classe elencando questi attributi che danno per ciascuno valore per ciascuna informazione un nome e un tipo di dato la città viene descritta attraverso queste informazioni e do l'elenco delle informazioni che la città deve avere l'impiegato viene descritto attraverso queste informazioni matricola cognome nome data di assunzione salario eccetera queste di nuovo sono siamo a livello astratto quindi stiamo dicendo che l'impiegato ha un cognome a livello della classe a livello di singolo oggetto ciascun singolo impiegato avrà uno specifico cognome a livello concreto a livello astratto stiamo dicendo che tutti gli impiegati avranno un cognome e per tutti questo cognome è un testo è una stringa di testo diciamo che c'è un attributo c'è un'informazione che vale per tutti gli elementi tutti gli oggetti di quella classe e che con l'informazione è di un certo tipo informaticamente parlando e come lo rappresentiamo questo in UML ebbè lo rappresentiamo semplicemente con un elenco nel secondo scomparto della classe nome dell'attributo due punti tipo di dato tipi di dato principali come vedete sono stringa data numero reale numero intero valuta che sono i tipi dei dati e qui arriviamo al dato che verranno armentati all'interno del sistema questo dato qua è un numero intero un milione e trecentomila cosa vuol dire? vuol dire che sono mi dà l'informazione di quanti sono gli abitanti di una città questa rappresentazione è quella che mi permette di dare significato a ciascun valore che ci metto lì dentro quel numero lì rappresenta un certo attributo una certa proprietà di una certa classe di oggetti e questo numero qua e questo numero qua saranno diversi non sono confrontabili otto che è il numero di credito di questo corso non ha nulla a che vedere con otto che è il numero di abitanti del paesino sperduto di montagna in cui sono rimasti solo in otto è sempre otto ma ha un significato diverso è un'informazione diversa a proposito di un tipo di oggetto di una classe diversa quindi questo qui riassumiamo solo questa slide riassume solamente i tipi di dato principali che usiamo di un ipotetico linguaggio di programmazione qui sono presi dal java ad esempio ma non è obbligatorio l'importante è che ci capiamo tra di noi qui non stiamo programmando stiamo solo modellando però è chiaro che è importante sapere se quel dato è un numero se è un testo se è una data o cose del genere ecco il terzo ingrediente principale del modello concettuale del diagramma delle classi è la qualità associazione le associazioni rappresentano i possibili legami tra le informazioni presenti nelle varie classi i collegamenti tra le varie classi le classi finora abbiamo detto che rappresentano oggetti che hanno un'esistenza indipendente possono esistere da soli possono descrivere una città senza dover necessariamente descrivere altri concetti rispetto a quella però se descrivi una città e descrivi una persona potrei anche dire che quella persona è residente in quella città o che è nata in quella città o che è stato residente in quella città o che andrà in vacanza in quella città tutte queste sono esempi di relazioni tra un qualche oggetto della classe persona e un qualche oggetto della classe città non posso dire andare in vacanza se non dico chi e dove non posso dire luogo di nascita se non dico chi è nato e dove queste sono informazioni importanti forse quasi ancora più importanti che l'elenco delle città o l'elenco delle persone o questo elenco di persone ma dove abitano dove vivono cosa fanno perché le conosco questo sono informazioni relazionali che mettono in collegamento relazionano oggetti diversi di classi diverse quindi rimanendo l'esempio nostro del Politecnico io posso avere una classe studenti e disegno i pallini che rappresentano i singoli oggetti tipo studente quindi ricordate che questo qua non è lo studente ma il foglio di carta su cui ci sono i dati dello studente o l'elenco dei corsi quindi la classe corso che contiene tante istanze e una per ciascun corso esistente e poi posso dire che questo studente frequenta due corsi quest'altro studente frequenta questo corso e solo questo questo corso è seguito da due studenti diversi quindi una relazione che mi mette in collegamento elementi della classe studente elementi della classe corso questo è la realtà le relazioni mettono in collegamento degli oggetti specifici delle singole istanze appartenenti a due classi diverse però non riusciamo a disegnarlo così se non si capisce più niente dobbiamo cercare di astrarlo dicendo che questi collegamenti che ci sono tra i singoli oggetti perché questo specifico studente va in questo specifico corso e non in un altro noi diciamo che esistono descriviamo l'esistenza di queste relazioni descrivendola tra le classi corrispondenti cioè noi faremo una cosa di questo genere studente frequenta corso studente una classe corso una classe frequenta un'associazione tra queste due classi che è semplicemente disegnata con una linea che le collega col nome sopra il nome quasi sempre cerchiamo di scriverlo sotto forma di verbo meglio se transitivo così ci dice chi fa cosa o ci dà il senso di questa associazione di questa relazione e cosa ci dice questa figura ci dice la stessa cosa di questa è solo un modo diverso di scriverlo ci dice che gli elementi della classe studente sono collegati attraverso una relazione di frequenza agli elementi della classe corso quindi è qui che dobbiamo fare lo sforzo di vedere i puntini i singoli studenti i singoli corsi lì dentro e quella freccia non va dalla classe alla classe non va da tutti a tutti dall'insieme all'insieme ma va dai singoli elementi del primo insieme ai singoli elementi del secondo insieme per motivi grafici della presentazione lo disegniamo così ma ciò che vogliamo intendere in realtà è questo ci vuole un po' ad abituarsi ma e qui c'è l'esempio di prima l'impiegato è residente in una città l'impiegato lavora in una città che può essere la stessa o può non essere la stessa quindi ciascun impiegato ci sono due informazioni distinte entrambe che lo legano per motivi diversi per relazioni diverse sempre un oggetto uguale o distinto non lo so di tipo città proviamo a rivedercelo sul nostro esempio ok poi più avanti parleremo di molteplicità ma non credo che lo faremo oggi allora riprendiamoci l'esempio del tema d'esame che abbiamo visto insieme la volta scorsa che come vi dicevo è l'esempio su cui lavoreremo così come pretesto ve lo ricordate era quello dell'hackathon e facciamo l'operazione di chiederci quali sono secondo noi i concetti principali che dovrà gestire il sistema informativo a supporto di questi hackathon cioè quali sono i i concetti gli insiemi di oggetti gli insiemi di informazioni i gruppi di informazioni omogenei che ho bisogno di trattare che saranno le nostre classi quindi prima ci chiediamo quali sono i concetti principali poi ci chiediamo quali sono gli attributi le proprietà di ciascuno di questi oggetti poi ci chiederemo quali sono le relazioni tra questi oggetti non è detto che arriveremo alla soluzione giusta e definitiva al primo colpo progettare è sempre un'attività incrementale metto G1 metto l'altra poi magari mi accorgo che ne ho fatte due ma in realtà sono la stessa perché hanno le stesse proprietà oppure quella che era una mi sembrava una e in realtà sono due non ci spaventiamo matita e gomma non penna qua si usa allora possiamo andare a vedere le informazioni che il sistema deve gestire se questo sistema deve gestire degli hackathon beh un concetto fondamentale sarà l'hackathon è un insieme una classe di tanti singoli hackathon diversi quindi questo sarà un concetto centrale del nostro sistema devo rappresentare informazioni su questo hackathon tra l'altro poi mi dice guarda che c'è una data di partenza una data di arrivo c'è un responsabile e così via e poi parla di giudici e poi parla di partecipanti quindi tutti questi sono tutti i concetti che dovranno essere rappresentati nel sistema allora cominciamo a tracciarli allora per farlo usiamo il programmino che vi avevo accennato la volta scorsa questo Ashta questo è il sito da cui scaricarlo ashta.net bisogna fare un po' di slalom per trovare quello gratuito ve lo faccio solo vedere se voi andate in fondo c'è un'asta community che è la versione gratuita se andate sulla versione gratuita Asta community free eccetera eccetera vai su download e ti dice guarda che la versione community 7 non si può usare per scopi commerciali scarica la 6.9 oppure scarica la trial la versione di prova della versione a pagamento e se uno si ferma qua non va bene deve leggere la riga sotto e dice ma se poi vuoi la versione community quella è davvero gratuita clicca qui quindi questa frase qua è un po' mezza nascosta ti dicono o usi la versione vecchia o usi quella a pagamento in realtà c'è quella nuova gratuita che ovviamente è gratuita non ha tutte le funzionalità dell'altra ma non è più che sufficiente e quindi vi porta questo box Asta community è da scaricare per la vostra macchina adesso qui mi fa vedere il link windows perché questo pc è sotto windows e è un programma che ha questo aspetto vabbè a parte questa bruttissima cosa di pubblicità che parte quando il programma parte permette di creare dei progetti all'interno dei quali ci sono i diagrammi quindi noi possiamo creare un nuovo progetto e intitolarlo me lo fa cambiare questo nome? sì ma non mi ricordo come e all'interno di questo progetto quindi ho fatto un nuovo progetto semplicemente posso creare dei diagrammi a noi interessa tra i vari programmi diagrammi che possiamo fare quello che ci interessa adesso è il diagramma delle classi qui mi dice che all'interno del progetto c'è un diagramma che è class diagram 0 lui lo chiama così in realtà qua poi lo possiamo chiamare come vogliamo ok è semplicemente il nome del modello questo è il foglio di lavoro in cui disegniamo il nostro diagramma delle classi e questi sono gli strumenti per mettere sul foglio di lavoro ciò che ci interessa in particolare questo strumento è class questa scatola con i tre scomparti questa altra è association questa riga qua quindi per ora noi ci chiedevamo quali sono le classi principali e beh allora abbiamo detto che una classe principale sarà sicuramente l'hackathon ingrandisco un po' così riuscite a vedere meglio questa è una classe quindi clicco sull'icona clicco sul foglio e mi mette una classe nuova sulla sinistra ho l'inventario di tutto ciò che ho fatto nel progetto nel progetto ho un diagramma delle classi e una classe definita poi dicevamo abbiamo dei partecipanti che si sfidano a progettare delle soluzioni bla 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 e questi partecipanti lavorano in team e vengono giudicati da dei giudici per cui probabilmente avrò il partecipante avrò il team e avrò il giudice di cui dovrò rappresentare delle informazioni affinché il sistema informativo possa gestire questi hackathon dovrò fare attenzione perché nel testo spesso ci sono dei sinonimi o quasi sinonimi quindi a volte parla di partecipanti qua ma più sotto parla di utenti gli utenti gli utenti possono iscriversi per quello per quello per quello li chiamiamo concetti e non parole dobbiamo identificare qual è il concetto che sta dietro anche al di là delle perifrasi dei sinonimi dei modi di dire e quando scriviamo è antipatico ripetere 64 volte la stessa parola e quindi anche naturalmente ci viene da usare dei sinonimi o dei pronomi tanto si capisce leggendo ecco questo livello di ambiguità di interpretazione del linguaggio lo dobbiamo buttare via dobbiamo scegliere se si chiama da una parte partecipante dall'altra utente dall'altra giocatore e dall'altra competitor non lo so ok scegliamone una e usiamo sempre quella e nel nostro modello concettuale rappresentiamo quel concetto lì che poi a parole nel testo sarà espresso in più modi diversi va bene è inevitabile proprio per quello vogliamo riuscire a estrarre l'informazione vera il succo da un testo che per suonatura è ambiguo iscritto è un'altra parola guardate ogni evento avrà un numero massimo di iscritti chi sono questi iscritti? sono gli stessi utenti o partecipanti se li vai a cercare li trovi queste ambiguità sono parole diverse che in realtà se capiamo il senso sono da attribuire allo stesso concetto che è il concetto che qui ho chiamato di partecipante all'ACAP ok per far questo dovete combattere una tendenza che avete a volte di tradurre pezzi di frasi in pezzi di diagramma di diagramma ah quando c'è scritto così prendo faccio là cercare di da non esiste una per questo tipo di modellazione una traduzione sintattica se nel testo dice così allora devo fare cos'ha se provate a applicarla vengono fuori dei pasticci tipicamente dei diagrammi sovradimensionati in cui non si capisce più nulla e i pezzi importanti invece non sono dimenticati l'operazione che dobbiamo fare è interiorizzare questo leggercelo capirlo farci un'idea di come funziona e poi da quell'idea produrre il diagramma poi il testo lo leggeremo sei volte per essere sicuri che l'idea rappresenti tutto che non abbiamo dimenticato un pezzo eccetera però dobbiamo sempre passare dal modello mentale che abbiamo del sistema informativo e poi rappresentarlo col diagramma delle classi non cercate di fare la scorciatoia traduzione da frase diagramma se no non funziona ok queste sono le quattro classi che probabilmente comporranno il nostro modello concettuale non dico che siano tutte non dico che siano giuste sono i concetti che per ora analizzando il testo analizzando il sistema ci siamo convinti no? credo che siano importanti sono indipendenti? sì posso parlare alle partecipanti senza citare il giudice e viceversa quali informazioni io ho a proposito di ciascuno di questi elementi cioè quali sono gli attributi allora per poterlo fare per poter aggiungere gli attributi entro nella seconda parte della scatola quindi partiamo dall'hackathon se cliccate sul bottoncino giallo vi si apre la possibilità di aggiungere gli attributi l'attributo lui lo propone già sotto forma di nome due punti tipo di dato questa informazione che qua c'è scritta è anche rappresentata qua a sinistra quindi c'è sempre in questi diagrammi la parte grafica il modello grafico e per qualunque cosa selezionate c'è il dettaglio delle proprietà dell'informazione che avete e spesso si può sia modificare il testo qua sia modificarlo qua non cambia nulla allora dell'hackathon che informazioni abbiamo andiamo a vedere il testo dice che l'hackathon ha un titolo identificativo quindi l'hackathon avrà un attributo che chiamiamo titolo che è di tipo stringa lui mi dice vuoi è la prima volta che usi la parola stringa vuoi creare un tipo di dato che si chiama string si e qua ci sono i tipi di dato che lui ha che lui conosce quindi lo posso selezionare anche da qua poi sull'hackathon che cosa conosciamo conosciamo anche in un certo luogo quindi invio luogo due punti stringa questo è un modo modo semplice di indicare il luogo un altro modo di indicare il luogo sarebbe di avere un'altra classe che si chiama città e di dire che l'hackathon si trova in una di queste città quindi mettendo una relazione adesso non abbiamo ancora siamo ancora arrivati a fare relazioni ma tra hackathon e città quale è giusto tutte e due in questo testo in cui non c'è motivo cioè non c'è un altro uso della città dell'hackathon che venga usata per fare altre cose avere l'informazione come proprietà qui o come relazione è indifferente non siamo ancora in relazioni quindi questo punto lo riprendiamo dopo ve lo so accennarlo adesso per far capire come anche nelle cose semplici ci sono tanti modi di fare le cose ok? e non è detto che uno sia più giusto dell'altro il testo non è tremendamente dettagliato sul concetto di luogo il luogo non serve da nessuna parte altrove e allora perché devo farmi del male essere masochista fare una modellazione più complicata di quanto in realtà non possa fare la semplicità è un valore sempre un modello semplice più ridotto a parità di potere espressivo è sempre da preferirsi in un certo intervallo di tempo quindi io so che l'hackathon inizia in un certo momento e finirà in un altro momento quindi scriverò che a inizio è una data e la fine sarà una data o data è ora adesso lo vediamo e ha un ben preciso organizzatore che è registrato nella piattaforma allora l'organizzatore è un tipo di utente un'informazione che finora non avevamo pensato ci avevamo dimenticato allora l'organizzatore lo posso descrivere così oppure lo posso riscrivere così che ovviamente avrà un nome qual è più giusto secondo voi l'organizzatore è un attributo dell'hackathon è un'informazione associata al concetto di hackathon o è una classe sestante c'è un oggetto di cui posso parlare indipendentemente sembra di più questa seconda però è vero anche per la città anche luogo è una cosa di cui posso parlare indipendentemente potrei fare una classe luogo perché pendiamo per dire beh luogo è un semplice attributo di hackathon mentre l'organizzatore ci sta meglio come classe a parte lei dice perché luogo non ha attributi non è vero luogo ha il nome ha la popolazione però non ci servono però non ci servono è meno importante ai fini di cosa devo fare in questo sistema informativo rappresentare in modo dettagliato il luogo non mi serve un gran che mentre rappresentare in modo più dettagliato l'organizzatore può darsi che mi serva di più per ora stiamo andando un po' a istinto poi andando avanti col modello riusciremo poi a decidere se va meglio uno o l'altro è chiaro che se lo uso come attributo non ci posso fare più nulla è come dire di che colore è l'hackathon giallo un'informazione lì che appiccico un'etichetta che appiccico se lo tengo come classe separata io potrei anche capire che magari con lo stesso organizzatore ha organizzato 10 hackathon perché lo fa di mestiere ed è sempre lui lo stesso allora questa è un'informazione utile sapere che uno stesso individuo ha organizzato più hackathon se pensiamo che sia utile allora si fa così classe separata perché voglio parlare dell'organizzatore a sé stante senza parlare dello specifico hackathon l'organizzatore è una persona che poi ha fatto cose ma ho delle informazioni su di lui perché per me sono importanti allora la presento come classe dipende dai casi in questo caso io tenderei più per la classe però è opinabile ancora la cosa no? ancora un passaggio su questo concetto se io ho due persone che si chiamano entrambe Mario Rossi e che entrambe organizzano hackathon allora io ho 100 hackathon i primi 50 sono organizzati organizzatore aperte virgolette Mario Rossi i secondi 50 sono organizzati da aperte virgolette Mario Rossi così non li posso distinguere è un'informazione un di più che c'è lì ma su cui non potrò mai fare delle elaborazioni successive se invece lo rappresento come classe separata allora di questa classe organizzatore avrò due oggetti due istanze diverse distinte due fogli di carta sul primo c'è scritto nome Mario Rossi sul secondo c'è scritto nome Mario Rossi ma sono due fogli diversi poi magari avrò anche una matricola un'email avrò altre informazioni di corredo che ci aiutano a renderle ancora più diversi ma anche se non ci fosse informazione aggiuntiva sono comunque diverse queste istanze cioè il fatto di avere attributi uguali non rendere le istanze uguali se voi trovate una persona che è nata del vostro stesso giorno non è voi è un'altra persona che ha un attributo uguale al vostro allora in quel caso io avrei un organizzatore che si chiama Mario Rossi un altro organizzatore che si chiama Mario Rossi coincide capita ma poi attraverso la relazione che stiamo per raggiungere sappiamo esattamente quali hackathon ha organizzato il Mario Rossi 1 e quali hackathon ha organizzato il Mario Rossi 2 perché le frecce guardate il disegnino le due ovali con i puntini vanno verso uno specifico puntino e non l'altro poi qui ho scritto note anziché nome scusatemi me ne accorgo adesso ok quindi in questo caso ho scoperto che nel modellare l'informazione a proposito dell'hackathon ho scoperto che c'era un concetto che magari è importante di cui mi sono dimenticato mi ero dimenticato in prima battuta altre informazioni sull'hackathon l'organizzatore si aziona un gruppo di giudici fino all'organizzatore di la prescrizione che si chiuderanno dopo due giorni prima dell'evento ogni evento avrà un numero massimo di iscritti in dimensione massima dei team la parola evento vuol dire hackathon qua è un sinonimo nascosto di hackathon e ogni specifico hackathon avrà un numero iscritti massimo diverso deciso dall'organizzatore allora avrà un campo intero che rappresenta un attributo di tipo intero che rappresenta il numero massimo di iscritti che è deciso dall'organizzatore quindi questo numero massimo di iscritti sarà un attributo di organizzatore o un attributo di hackathon la frase dice l'organizzatore decide il numero massimo di iscritti il numero massimo di iscritti è una proprietà di organizzatore o di hackathon hackathon non facciamoci fregare dalle frasi o dei soggetti o da chi fa le cose il numero massimo di iscritti è una proprietà dello specifico hackathon che poi sia deciso dall'organizzatore sia tirata a sorte o sia stata suggerita in sogno da un angelo non ci interessa alla fine quell'informazione dove la scrivo dentro le regole dell'hackathon chi le ha scritte quelle regole l'organizzatore ho capito va bene ma quello stesso organizzatore in un altro hackathon potrebbe scrivere delle regole diverse quindi quel valore è un valore specifico di ciascun singolo hackathon ogni hackathon deve avere quel valore può essere diverso io qua dico solo che l'hackathon deve avere un numero massimo di iscritti che è un intero e una dimensione massima del team dimensione team che è un intero nel modello concettuale non dico mai chi fa le cose chi ha deciso cosa dico solo se qualcuno ha prodotto delle informazioni queste informazioni a che cosa sono legate a che cosa sono correlate dove stanno tizio che non mi interessa se l'organizzatore o l'angelo sognato stanotte ha deciso che l'hackathon ha un numero di iscritti massimo e quello è un dato che l'hackathon si deve portare dentro è un attributo specifico di questo hackathon poi c'è tutta la parte di iscrizione che è complessina ma visto che parlavamo dell'organizzatore proviamo a completare il discorso sull'organizzatore che è la parte più semplice abbiamo detto che c'è un organizzatore che ha un'informazione a sé stante degna di esistere come classe avrà tante istanze quante sono le persone che organizzano hackathon su questa piattaforma gli hackathon sono informazioni invece sugli eventi questi due sono legati sono legati ad una relazione una relazione che dice se ho dieci organizzatori per ciascun di questi dieci quali hackathon lui ha organizzato quale barra quali e viceversa per se ho cento hackathon per ciascun di questi hackathon da chi singolo è stato organizzato l'organizzatore è uno per ogni hackathon quindi aggiungiamo una relazione la relazione si può fare o prendendo un simbolo da qua oppure più semplicemente semplicemente se selezionate la classe vedete che sui bordi della classe compaiono questi questi baffi in realtà non è altro che la freccia di relazione che posso prendere cliccando e allungarla tac ho creato una relazione relazione che posso chiamare organizza l'organizzatore organizza un hackathon c'è l'informazione che mi mette in relazione il fatto che ci sia un organizzatore e il fatto che ci sia un hackathon e che quell'hackathon sia stato organizzato esattamente da quell'organizzatore lì dal punto di vista grafico cosa succede è la relazione è semplicemente una linea che collega le due classi a cui diamo un nome per riuscire a capire il significato di quella linea e il tool automaticamente mette un triangolino una frecciolina quella freccia corrisponde alla direzione in cui abbiamo disegnato noi la linea quindi lì sono disegnate dall'organizzatore ad hackathon e qui mi hanno messo la freccia verso destra altrimenti mi avrebbe messo verso sinistra non è la freccia scusate non è la linea che ha una freccia in testa questa è la linea è attaccata al nome non alla linea e mi dice visto che questo è un verbo transitivo in che verso va letto lo leggo organizzatore organizza hackathon non hackathon organizza organizzatore ci dice solo l'etichetta se attraverso la reazione in un modo a parole lo leggo così se attraverso il contrario devo invertire il verbo dovrei dire l'hackathon è organizzato dall'organizzatore quindi è solamente un ausilio nella lettura della reazione cioè quell'etichetta lì quel nome lì ha un significato se tu lo leggi in questo verso se lo leggi nel verso contrario devi invertire chiaramente il senso del verbo ok quindi c'è una relazione tra organizzatore e hackathon e il senso della reazione è che quell'organizzatore è lui che ha organizzato l'hackathon poi aggiungeremo anche le altre un'informazione chiave che manca ancora qui che anche questa vedremo martedì c'è una certa asimmetria numerica in questa relazione che ho accennato prima nell'esempio cioè un organizzatore può se vuole organizzare tanti hackathon dipende quanta voglia ma ciascun hackathon ha un solo organizzatore non c'è un hackathon organizzato da 10 allora come rappresento questa informazione vi tocca aspettare fino a martedì grazie a tutti Grazie.